ciao cancro benvenuto andiamo a vedere anche per te cosa hanno da raccontare le mie carte le lascerò assolutamente libere di raccontare di narrare quindi ci possono parlare di qualsiasi cosa ok andiamo a vedere partiamo dagli oracoli e chiediamo loro cosa c'è di nuovo cosa deve sapere il segno zodiacale del cancro cerco di parlare con un tono diverso da come siete abituati a sentirmi perché devo sentare di risparmiare la voce sennò tutti questi video è una violenza e mi faccio è però devo tentare di rimanere con il tono più basso allora segno zodiacale del cancro quali sono le novità qui c'è una graziosa fanciulla lei quindi potresti benissimo essere te oppure se sei un uomo potrebbe essere una donna una ragazza una donna questa un'energia femminile con cui potresti avere a che fare o comunque essere il fulcro diciamo così verso la quale insomma gira un po tutto ma vediamo segno zodiacale del cancro ok ti allontanerai da una situazione pensieri e sogni d'amore segno zodiacale del cancro amica fedele e qui sono già due energie femminili e quindi forse proprio due donne vediamo per il segno del cancro una carta per favore per il cancro ok amore è guardare insieme nella stessa direzione però attenzione perché qui nel nel taglio del mazzo c'è questa maschera attenzione alle falsità quindi qui ci potrebbe essere qualcuno che gioca o che ha giocato come si dice ha fatto un po il doppio gioco insomma magari qui siamo venuti o verremo a conoscenza dio qualcosa che ci turba riguardo questa persona magari forse proprio riguardo questa amica questa questa persona amica qui effettivamente c'è una persona che si allontana da qualcosa si allontana magari semplicemente si allontana da come ti posso dire da un'idea da un'idea da un progetto che una nostra amica a come dire prendo le distanze ma al di là di questo qui posso vedere proprio una una donna ragazza che semplicemente lascia la casa familiare spiegato in soldoni magari c'è qualcuno so la figlia vostra figlia oppure siete voi la figlia che andate a vivere per conto vostro da qualche parte semplicemente qui ci può essere anche quello vediamo per il cancro segno zodiacale del cancro guarda la solitudine quindi qualcuno di noi cancro si sente si sente solo qui c'è la solitudine quindi l'allontanamento di una persona cara da noi ora qui non vedo chiusure non sto dicendo allontanamento nel senso di chiusure no magari semplicemente abbiamo qualcuno che è lontano che è lontano da noi e che ci manca quindi qui c'è anche una certa nostalgia una certa malinconia di una persona e questo senso questo sentimento di vuoto questo senso di di solitudine vediamo cancro c'è anche un certo senso di colpa però io non so da parte di chi qui c'è qualcuno che si sente in colpa forse per questo allontanamento no come dire vado perché devo andare però ho anche questo senso di questo senso di colpa dentro di me ma vediamo cancro vedi qui ci sono i dubbi ma io voglio una carta una carta per favore il segno del cancro vedi e l'empatia empathy e il coraggio ma è qui le carte parlano chiaro io non lo so perché di chi di cosa vi stanno parlando però qui fanno vedere questo senso di solitudine questa mancanza molto molto forte questo senso di solitudine come dire però sappiamo anche che dobbiamo avere il coraggio di fare questo passo ecco io non lo so davvero di cosa vi stanno parlando non non lo so vediamo i sarocchi che dicono vediamo per il cancro qui c'è una presa di posizione di distanza da da qualcuno però ecco qui c'è l'amore quindi io non credo che ci sia un qualcosa di brutto in atto sinceramente più che brutto diciamo che qualcuno non affronta l'altra persona non affronta la situazione ma tende a scappare vedi gli amanti qui c'è il cuore coinvolto qui c'è in questa situazione una persona a noi cara qui c'è il cuore con voi coinvolto l'amore vediamo segno del cancro ok il 2 di denari amanti 2 di denari vedi il cavaliere di bastoni che però è uscito rovescio il re di denari il 6 di coppe vedi il 6 di coppe e l'asso di denari che è wow super wow oltre a quello che ho detto per il cancro se 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 allora qui c'è ve lo dico proprio in modo anche abbastanza brutale ovunque qui c'è il ritorno di qualcuno qualcuno che vi manca tanto sicuramente potrebbe essere questo uomo qui è uscito questo re di denari segno di terra toro vergine capricorno ma ve lo dico tanto per dire non è detto che la carta si focalizzi cioè me lo indichi per il suo segno zodiacale va bene però insomma questa energia maschile qui c'è stata una rottura qui c'è stata una rottura una chiesura ad una comune al di là di quello che vi ho appena detto è aggiungiamo qui c'è un qualcuno che manca e manca assai quindi qui abbiamo rotto con qualcuno abbiamo perso le comunicazioni con qualcuno qui c'è stata una rottura un abbandono anche abbastanza doloroso potresti essere stata tu se tu sei la donna in ascolto potresti essere stata fea ad allontanarti da questa persona fatto sta che ti manca ancora qui c'è proprio la come posso dire la mancanza no la mancanza la nostalgia il ricordo la diciamo che i sentimenti sotto sotto la cenere sotto le rovine ci sono ancora per questa persona persona e io credo dovrebbero apparire qui fanno vedere quest'asso di denari e wow e credo che la nostalgia la malinconia la mancanza di questa persona che tu hai verso questa persona questo pensiero che hai verso questa persona anche questa persona ce l'abbia per te questo è quello che io credo da queste arti e fanno vedere in modo proprio chiaro inequivocabile proprio un ritorno che si tratti di amore che si tratti di un'amicizia che si tratti di un figlio magari semplicemente abbiamo un figlio una figlia che vive lontano da noi come vi dicevo e potrebbe venire a casa per il cancro ci sono molti dubbi qui però è qui un qualcosa vedi il 4 di bastone qui qualcosa è successo qualcosa è successo e ora la situazione si vede un po dubbiosa magari semplicemente non tu pensi che possa esserci un ritorno qui dei dubbi ci sono dei dubbi ci sono si guarda parole testuali il matto il re di il matto il re di coppe e il carro quindi inequivocabili inequivocabili qui c'è sicuramente il tornare il tornare di qualcuno ma tornare nel vero senso della parola quindi potrebbe essere proprio un viaggio che questa persona fa per venire da noi fisicamente ma anche proprio un ritorno un ritorno da noi dopo un periodo di solitudine di distacco da questa persona capito anche poi quest'asso di denari insomma mi sembra mi sembra evidente guarda la forza ma è qui c'è una passione molto forte per questa persona qui c'è una passione molto molto fu guarda la forza il fante di coppe qui c'è proprio il riapparire di una persona da cui ci eravamo in qualche modo allontanati in passato c'è stata una rottura però vedo proprio a chiare lettere proprio il ritorno di questa persona quindi cancro preparati decidi cosa vuoi fare perché questa persona sta tornando c'è sì guarda la ruota della fortuna e il papa qui c'è proprio il tornare il cambiare di una situazione anche il far pace se vuoi se c'è stato un qualcosa di particolare qui la rottura c'è stata si vede l'allontanarsi da una situazione e poi vedo dai tarocchi lo stesso discorso quindi qui c'è un cambiamento che sicuramente ti porterà molta molta gioia molta soddisfazione qui c'è proprio un cuore felice qui non escludo che ci sia stato un allontanamento silenzioso cioè proprio lo sparire il defilarsi via da una situazione capito però qui ti vedo felice ti vedo proprio felice contenta o contento naturalmente cancro ok quello che mi sento di dirti vediamo esatto no ora ho chiesto cosa prova per voi è uscita la coppia il re e la regina di denari eccoli là quindi questo è diciamo il puntino sulla i qui c'è un ritorno mi dispiace ma qui c'è è chiaro per il cancro il re e la regina di denari guarda se se ha voglia mi dispiace che non posso urlare mi verrebbe ma devo stare guarda una violenza quella che mi faccia rimanere in questo sono sì mamma mia però devo cancro quando meno se l'aspetti c'è il ritorno di questa persona che ti renderà felicissimo cancro quindi qui preparati io ti confermo tutto quello che ho detto se ce ne fosse mai stato bisogno perché insomma sono abbastanza chiare ti vedo proprio felice ti vedo felice gioire poi insomma già questa carta poi è uscito anche un asso di bastoni queste sono queste sono carte con la c maiuscola il carro il trionfo cioè insomma voglio dire queste sono carte belle quindi caro cancro preparati da questa solitudine diciamo sì ecco sappi che se a te manca questa persona anche tu manchi alla persona la cosa è reciproca va bene fammi sapere cosa stai vivendo e ti aspetto al prossimo video ciao cancro eccoci qua vi lascio ai miei vi no 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 no